Naturalmente questa intesa parte anche associando la Serie D che è nella nostra seconda squadra quindi avremo due squadre, la B2 e la Serie D con il nome Lavinia del gruppo Trani. E' un campionato nuovo, quello che stiamo per iniziare, un campionato che non conosciamo, noi veniamo da tre anni di Serie C mantenendo sempre buoni risultati, sempre in testa la classifica, quest'anno ci apprezziamo a fare un campionato di livello nazionale una B2, usciremo fuori regione e le aspettative, di questo non ne possiamo parlare, non conosciamo le squadre sono squadre di fuori e quindi man mano che inizieremo le gare, inizieremo a prendere dei video per visionare potremmo dire qual è il posto a cui possiamo puntare Sicuramente le aspettative sono di fare un bel campionato, di giocare per bene, di creare un bel gruppo unito soprattutto con i nuovi innesti, si sta cercando di creare subito la sintonia Per adesso ciò che stiamo costruendo è un qualcosa di positivo, infatti si prospetta un bel campionato sereno, tranquillo e noi cercheremo ovviamente di fare bene, ovviamente con l'aiuto dello staff tecnico però noi ci mettiamo del nostro e cercheremo di dare la giusta grinta in ogni partita e io da capitano cercherò di mantenere unito il gruppo creando una bella armonia in squadra Sicuramente non è facile ritrovarsi dopo soli tre anni di attività dell'Adriatica dalla Serie C a disputare un campionato nazionale come quello di B2 quindi sarà tutta una sorpresa per noi perché ovviamente il livello del campionato lo conosceremo solamente partita dopo partita però noi ovviamente abbiamo sempre voglia di far bene e quindi continueremo a lavorare per quello c'è sempre appunto l'obiettivo di permettere anche a tutte le giocatrici che erano già presenti nel roster di migliorarsi le aspettative sono sempre relative perché poi di partita in partita cambia sempre tutto Grazie ovviamente l'Adriatica per questa opportunità datami in questa nuova stagione 2019-2020 per me tornare all'Adriatica è stato già un passo positivo Gli obiettivi che ci siamo prefissati quest'anno per la Serie D sono ovviamente raggiungere la salvezza in quanto è una squadra nuova ed è il ponte di collegamento tra quello che è il settore giovanile della società con quello che è la prima squadra della società quindi creare quel punto di lancio che potrà permettere tra qualche anno magari a qualche ragazzina di poter ambire alla prima squadra ovviamente appunto questi sono gli obiettivi quindi speriamo di poter lavorare al meglio durante l'anno per poterli raggiungere senza intoppi Per quest'anno cercheremo di puntare sicuramente alla salvezza perché siamo una squadra giovane che si conosce da poco stiamo giocando da poco insieme però c'è un bel affiatamento quindi speriamo in buonissimi risultati e anche quest'anno siamo orgogliose di vestire per il secondo anno consecutivo la maglia dell'Adriatica sperando in un buon risultato Grazie 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 Grazie.